Irene Capuano pronta al parto, il nome del figlio di Francesco Arca scelto dalla sorrellina, foto. Arriva un altro nome doppio nella famiglia di Francesco Arca perché la prima figlia dell'attore ed Irene Capuano ha voluto scegliere da sola il nome da dare al suo fratellino. Maria Sole ha scelto Brando Maria, quindi presto verrà alla luce Brando Maria Arca. A rivelarlo è la compagna di Francesco Arca, che sui social ha postato un breve e dolcissimo video in cui la piccola Maria Sole dà un bacio al pancione della sua mamma e svela il nome, Brando e per lei non esiste altra possibilità. A un mese dalla nascita Bemus nome scrive la futura mamma. In realtà Francesco e Irene avevano deciso che sarebbe stata l'ecol pancione a scegliere questa volta il nome del figlio maschio ma la primogenita sembra già comandare e dimostrare il caratterino ricco di personalità. Il figlio celeste in casa di Francesco Arca e Irene Capuano sta per arrivare, manca un mese e sembra che già sia tutto pronto per il parto perché l'emozione è forte. Qui si lievita la mia pancia cresce e sembra un grande cocomero e le tempo passa veloce e se penso che a fine mese sarò una mamma bis mi si riempie il cuore, ha scritto Irene ai follower su Instagram, avevamo deciso che il nome del maschietto l'avrei dovuto scegliere io. Ma Maria Sole non sente ragioni. E alla fine vincerà lei? Irene sui social è molto attiva e lei piace leggere i consigli di chi la segue. Grazie per la visione!